Rula Gebreal ieri a Festival di Sanremo 4 febbraio 2020, la prima puntata. Una rula diretta, impossibile non vederla, elegante, gentile e raffinata, ma soprattutto diretta nel far capire che, effettivamente parlando, le donne non valgono meno degli uomini, insomma, dura e contro la violenza sulle donne. E lo si percepisce fin da subito, fin dalle prime battute. Una donna diretta, non scontata, non banale, ma in gamma, che non ha paura di esporsi e non ha paura di entrare in gioco facendo sentire in maniera viva e diretta la sua voce. Non ha paura di esporsi, ripeto nuovamente, la bellissima e brevissima Rula Gebreal, giornalista di facile diretto di successo. Contro la violenza sulle donne, gli uomini devono stare con le mani in tasca e non di più. Grazie a tutti da Leandro e narratore italiano, iscrivetevi, commentate, al prossimo video.